3 milioni e 400 mila euro per aggiornare il cinema alle nuove tecnologie. Le mette in campo l'assessorato alla cultura della regione Lazio per sovvenzionare la digitalizzazione delle sale cinematografiche. Dal 1 gennaio 2014 la pellicola scomparirà. Tutti i film saranno distribuiti solo in formato digitale. E le sale del Lazio dovranno adeguarsi o chiudere. Attualmente nella regione su un totale di 437 schermi in 123 cinema solo 245 sono digitalizzati. Nel mondo è digitalizzato circa il 75% delle sale. In Italia questa percentuale si attesta al 55%. Tra i paesi a maggior tasso di digitalizzazione la Francia arrivata al 95% grazie ad un consistente investimento da parte dello Stato. Il bando della regione Lazio prevede un contributo a fondo perduto pari al 70% con un limite massimo di 200 mila euro. Ancora in tema di cinema, incrociato con la scienza, l'assessorato alla cultura della regione Lazio ha emesso poi il bando ricerca per il futuro. Un concorso per corti dedicati alla scienza aperto a tutti i generi cinematografici dalla fiction al documentario all'animazione. Termini del bando scadono il 30 agosto e la domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online attraverso un forum di iscrizione sul sito dell'associazione Frascati Scienze partner dell'iniziativa.